Eccoci, bentrovati ragazzi, benvenuti a tutti voi, io sono Manuel, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Bar del Calcio, già vi dico che c'è un po' dei giramenti, vi dico la sincera verità, c'è un pochino dei giramenti, partiamo con la nostra intro. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro Fuggire per rinascere, come acquistarlo? Facile, la via principale è farlo tramite il sito che mi ha permesso di pubblicarlo, You Can Print, andate sul sito You Can Print, sulla barra di ricerca andate a scrivere Fuggire per rinascere e automaticamente vi porta lì per l'acquisto, oppure in alternativa lo trovate sulle principali librerie, Feltrinelli, Mondatori, oppure il 90% delle librerie d'Italia distribuisce il mio libro, andate lì, lo ordinate, nel giro di 4-5 giorni vi arriva. In alternativa, per essere messi a conoscenza proprio nel dettaglio di tutti i canali di distribuzione del mio libro, andate su Google, digitate Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi esce tutta una sfilza di modalità di acquisto del mio libro. Io ringrazio anticipatamente chi mi dà fiducia e chi decide di acquistarlo, ma la cosa che più mi sta a cuore è quella di mandarmi poi una vostra recensione, perché come sapete ci tengo moltissimo. Ciao! Allora, innanzitutto, meno male che ho la luce alle spalle, mi serve una luce forte che mi sostiene, perché altrimenti mi viene proprio... ho i mancamenti, mi viene da svenire. e ora vi spiego pure il perché. Non prima di avervi ricordato che se gradite questo contenuto mettete un bel mi piace in descrizione e nel sotto pancia trovate tutte le informazioni riguardanti il nostro canale, un canale che è inutile e potico, sta crescendo in una maniera clamorosa, sta crescendo a record mai visti, a ritmi paurosi, ragazzi. Viaggiamo a belle spiegate verso gli 8.800 iscritti, cioè numeri paurosi, ragazzi, paurosi, vi dico la verità. Allora, considerate che uno quando inizia l'anno si pone un pochino gli obiettivi, no? Io e Fabrizietto c'eravamo posti l'obiettivo di arrivare a 10.000 iscritti, che sarà una cosa che festeggeremo alla grande, non escludo una cena per questa cosa. 10.000 iscritti entro dicembre di quest'anno, dicembre 24. Ragazzi, costa media. Considerate quasi 340 iscritti negli ultimi 28 giorni. Sono numeri paurosi, quindi grazie, grazie, grazie a tutti voi. Ma oggi mi rode, in questo video mi rode, c'ho un bel rodimento, perché ancora una volta questa società cade nel ridicolo. Avete capito bene? Cade nel ridicolo. Credo vi basti sapere che Tudor doveva essere presentato oggi, ok? Volete sapere il motivo per il quale è stato posticipata domani la presentazione di Tudor? Cercate di indovinare. Vi do qualche secondo. Ragazzi, perché l'Odito oggi non c'aveva tempo? Cioè, Tudor è presentato domani, ditemi voi se questa è una motivazione, perché l'Odito oggi c'aveva troppi impegni. Perché lui alla Lazio ci pensa quando non c'ha tutti gli altri impegni. La Lazio viene dopo tutti gli altri impegni. Ma io dico, possiamo andare avanti così? Ma soprattutto, la domanda che faccio io, caro presidente L'Odito, ma guarda che una presentazione si può fare pure senza di te, eh? Io ricordo una marea di presentazioni di allenatori, o anche di calciatori, senza la presenza del presidente, col direttore generale, col direttore sportivo, con l'amministratore delegato. E invece no, c'è un motivo, se tu hai obbligato tutti a spostare la presentazione di Tudor a domani. E lo sappiamo tutti. Perché tu sei la solita prima donna. Ci devi stare sempre. E domani, invece della presentazione di Tudor, si trasformerà, domani, nel tuo show. Nel tuo show, dove dirai una marea di minchiate. Dove dirai che Tudor ha rifiutato la Roma per la Lazio. Dove dirai che Tudor ha rifiutato il Napoli per la Lazio. Gaffa clamorosa che già hai fatto, appena è venuto fuori il nome di Tudor, perché in realtà gli esoneri della Roma e del Napoli sono venuti molto prima di quello di Sarri. Sono venuti in contesti in cui neanche si pensava minimamente che Sarri andasse via all'epoca. Quindi di che stiamo a parlare? Non dire stronzate. Non dire stronzate, caro presidente. Perdonami, ma ti parlo da tifoso ferito. E da tifoso ferito posso anche lasciarmi andare a qualche parolina di troppo. Tu domani dovrai vantarti di queste cose. Tudor l'ho preso io. Tudor del qua. Tudor del là. A me questa cosa che tu sei troppo circondato, o quantomeno che ti circondi di troppi signorsi, a me non mi sta bene. A me mi sta bene. Non è questa la società che voglio io. Non è questa la società che sogno io. Non è questo il modo di rappresentare la squadra che amo. Non è questo assolutamente il modo. È tutto vergognoso. Chiaramente questa, secondo molti di voi, magari sto anche enfatizzando questa situazione qui. Ma guardate che è dai piccoli particolari che si vedono e giudicano le cose. Io sono senza parole, ragazzi. Sono letteralmente senza parole. Ditemi voi se questa è normalità. Ditemi voi se questo è un modo coerente, ma dico anche di più, ci vado pesante, intelligente di gestire una società di calcio. No, non da fare la spesa adesso. Guarda, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Domani è appuntamento per la conferenza stampa. Stasera non da fare la spesa con mia moglie. Stasera oggi c'ho il Parlamento. Pomeriggio c'ho la riunione in commissione parlamentare. Poi c'ho la riunione con i rappresentanti dei lavoratori delle mie aziende, del cacchio che te se frega. Perdonatemi, quando ci vuole, ci vuole. Non è questo il modo di gestire una squadra di calcio. Ecco, a tal proposito, devo dire la verità, nella conferenza di Tudor c'è una cosa che non mi è piaciuta. Ed è proprio il riferimento a questa cosa qui. Nel senso che della Lazio cosa lo attraeva, cosa gli piaceva? Questa gestione quasi familiare, l'Evacer quasi, è una gestione familiare, Tudor. Una società molto lineare? No, è una società molto verticale, mister. Lo dito e in altre due tre persone, stop. Quando oggi, ai giorni d'oggi, una società di calcio va gestita assolutamente a struttura orizzontale. Ci sei tu, sotto mi metti un responsabile di un settore, al suo stesso livello ci metti un responsabile di un altro settore, al suo stesso livello ci metti un responsabile di un altro settore e sotto gli metti i team per lavorare in maniera intelligente, per stare al passo con i tempi. Accusavo a Sarri, nelle sue ultime battute alla Lazio, di essere un allenatore all'antica. Raga, vi posso dire una cosa? A me sta cosa della gestione familiare della Lazio non mi piace proprio. È una Lazio gestita all'antica e io non ci posso stare. Mi dispiace, mi chiedo scusa. Ma io non mi piace sto modo di fare Lazio. Quello che è successo con sta presentazione dei tutor è l'ennesima figura barbina al mondo del calcio. Mi dispiace, profondamente amareggiato. Ciao. Grazie. 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 Grazie.